E' per i seri pro, 77 giorni di peso, accogliamo a Lago Blu e a Bad Boys di la Dispoli, entra Diego Toso Lazzarini! E' per i seri pro, 79 giorni di peso, accogliamo a Lago Blu e a Bad Boys di la Dispoli, entra E' per i seri pro, 79 giorni di peso, accogliamo a Lago Blu e a Bad Boys di la Dispoli E' per i seri pro, 79 giorni di peso, accogliamo a Lago Blu e a Bad Boys di la Dispoli E' per i seri pro, 79 giorni di peso, accogliamo a Lago Blu e a Bad Boys di la Dispoli E' per i seri pro, 79 giorni di peso, accogliamo a Lago Blu e a Bad Boys di la Dispoli E' per i seri pro, 79 giorni di peso, accogliamo a Lago Blu e a Bad Boys di la Dispoli E' per i seri pro, 79 giorni di peso, accogliamo a Lago Blu e a Bad Boys di la Dispoli Via 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 arriva in basso arriva in basso devi andare via devi andare via non tapperare la gamba portami la terra qui passa il brazzo passa l'altro brazzo via 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 gambe dietro chiudi la contraporta cercare di riprendere la patria bravo vicini al ginocchio riprendi la quadra dai 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 subito però subito vai 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 via 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 chiuso chiudi la barbia sulle braccia vai via 4 minuti vai via schiacci il sedere a terra vaccino a terra piaccia attenta le braccia attenta le braccia esci dove ti chiamo Diego esci vaccino a terra Diego schiaccia il vaccino schiaccia il vaccino schiaccia il vaccino ah esci esci bravo 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. sali Diego, sali adesso, sali adesso, parti, così, ancora, guarda, guarda, guarda per me, guarda, 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 guard bravo Francesco 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 forza vado a sentire la sbarra vai cosa è il ginocchio aiutare con la gabbia appogliola la gabbia Lo scopo! La gamba è il posto! Vai! Bravo, tranquillo! Bene, stavo benissimo! Bene, stavo benissimo! Vai, manteni adattare! Parla di fuori nostro hosso! Bravo! Voi! Buon minuto! Riprendi la struttura! Francesco, trattemelo chiaro! Stavo con il braccio! Stavo con il domedo! Stava stavando qui! Bravo! esatto super principi forza chiudiamo le gambe bravo 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 forza 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 vai Francesco vai uscire la pressa dai lavora però eh voglio dire un minuto forza forza Francesco forza 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 Vincere per decisione ananime Francesco!